Ciao a tutti, eccoci qua, ci siamo fermati per il pranzo e siamo andati, siamo in un'area commerciale dove, qui vicino al porto, guardate, infatti io qui ho una bellissima vista, vedete, questo è il porto, molto bello, e siamo praticamente entrati in un ristorante dove si paga una quota fissa che dovrebbe essere 1799, qui il drink bar 199, ed è tutto all'utilizzo, abbiamo detto fuori che ci sono circa 90 tipi di piatti, caldi, freddi, pesce, carne, pizza, pasta, riso, cinese, giapponese, tutto quello che volete, vi ho appena fatto vedere la mia prima parte del mio pranzo, due pezzettini di pizza, pasta col pesto e pasta alla marinara con corte gondole, questo video sicuramente lo divido in più parti, infatti vi faccio vedere tutto quello che mangio fino alla fine, questo è il mio succo d'arancia che ho preso, molto buono, ora assaggerò, vediamo come fanno i giapponesi la pasta al salmone, qui a Coppe, pasta al salmone, è buona, è buona, la pasta la fanno bene, certo, sono una cucina internazionale, ovvio, veramente molto buona, le fanno come vengono fatte nei rispetti paelli, devo prendere le pesate e il cuore, veramente molto buono, veramente molto buono, devo aprire il falzoletto, quindi metto un attimo giù la foto per camera, eccomi qui, qui a Coppe c'è appunto questo centro commerciale di tre piani, che è una terra prima e secondo, dove il terzo, che tra l'altro c'è anche una sala giotti della Silvia, e il secondo piano dove siamo noi ora, sono quasi tutti i ristoranti, qui in secondo piano ce ne sono circa una cinquantina abbondanti tranquillamente, sopra ce n'è un po' di meno, ed è a mettere in brazzo della scelta, ma questo per 1.700 è più il drink a 2.200, quindi con 2.000 yen mangi quanto vuoi. Non c'hanno il coltello, non usano coltello. Mmm, la pasta salmone era buona, ora assaggio questa da marinare con forze bongole. Ho preso anche gli asci, in caso lo passaggio qualcos'altro, magari non proprio il tipico italiano. Spaghetti alla marinara. E comunque, come vedete, non si usano le tavaglie in Giappone. Pasta, pizza, con pomodoro, mozzarella e funghi e questa qua, non lo so, mozzarella, un po' di tipo basilico, tresemolo, non lo so, dopo l'assaggio. Allora, ce l'assaggio subito, così vediamo com'è. Mmm, è veramente buono. E' fredda la roba, mi spiace. Non lo sto avvenendo. Non posso. E' fredda la roba, mi spiace. Amm, di sottoviare, non ci sono mai contento. La pizza è molto buona. Ora vi faccio vedere come l'isturante, è enorme l'isturante. Guardate. La pasta è buona, molto buona, vi faccio vedere ancora il panorama da fuori, parvate, c'è l'oriental hotel, qui c'è una nave, molto buono, quindi ora interrompo il video, vi faccio un secondo video quando prendo le altre portate, quindi ci vediamo tra poco qui da qua a me, ciao ciao!